Ma cosa voglio dire di Mr. Supersever? Lui è un grande allenatore e sa anche valorizzare giocatori giovani, sconosciuti e qualche top player che già ormai li conosciamo da tanti anni. E se dovesse venire un giorno qua a allenare la Longobarda mi farebbe molto piacere se dovesse venire qua in Italia, visto che sta facendo esperienza internazionale con la TD Bilbao e la sta portando quasi in Champions League. E comunque Mr. Supersever sei un grande allenatore e comunque ti faccio i meritatissimi complimenti per quello che stai facendo lì in Spagna. E detto questo ragazzi a tra poco con la carriera allenatore con la TD Bilbao su FC24 dal grandissimo Mr. Supersever. Buona serata.